E' vero che la competitività tra intermediari si gioca oggi sul terreno della specializzazione oltre che su quello delle capacità consulenziali? Io e la mia società ne siamo convinti e sin dal 2001 anno di costituzione della società ci siamo rivolti esclusivamente ad un settore specifico, quello della responsabilità civile professionale nel quale abbiamo acquisito negli anni un know-how che ci ha permesso sicuramente di essere in grado di risolvere i problemi del mercato per quel settore. Inoltre attraverso il mercato dei Loitz siamo riusciti sempre nell'ambito della specializzazione nel settore della responsabilità civile, amministrativa e professionale di creare coperture assicurative del tutto adeguate alla normativa in continua evoluzione. Come si può rendere più competitivo il mercato assicurativo italiano? Credo che il nuovo regolamento abbia introdotto una serie di limitazioni che talvolta sono effettivamente a vantaggio del consumatore ma spesso sono esclusivamente delle barriere per svantaggiare dei soggetti senza un particolare valore aggiunto. Ritengo importante che il nuovo regolamento che si prevede nei prossimi mesi essere un'evoluzione dell'attuale anche alla luce tra Bersani e BIS possa contenere delle norme che permettano di più la collaborazione tra intermediari e anche con agenzie di sottoscrizione come la mia. Descriva per favore l'attività specifica della sua società, la AEC Underwriting. La AEC Underwriting è un'agenzia di assicurazione e riassicurazione definita come si definisce a livello dell'agglosassone, agenzia di sottoscrizione. Cioè è un'agenzia che mette a disposizione degli altri intermediari, infatti si definisce grossista, le capacità di sottoscrizione del mercato dei Lloyds tutto questo senza avere la necessità di essere un corrispondente dei Lloyds o di conoscere specificamente il funzionamento del mercato dei Lloyds. È estremamente importante la possibilità di accedere al mercato dei Lloyds con sistemi informatici e organizzativi del tutto innovativi e anche con rischi di dimensioni del tutto minori. Grazie per la visione!